Ciao, in questo video vi mostro quello che ho creato in questi giorni di malattia, ho fatto quattro cose, quattro cosette, una poi comunque non ve la posso mostrare perché è quello che invierò alla mia swappina, a parte che devo ancora comunque terminarla, finirla, quindi vi farò vedere tre cosettine che ho fatto, due terminate e una non ancora perché stavo pensando come finirla, comunque adesso vi farò vedere tutto. Allora, partiamo con questo ciondolo, questo ciondolo qui è sempre realizzato con colori che fanno fatica a vedersi da una videocamera, è uno Swarovski quadrato, adesso non ricordo bene le dimensioni anche perché sulla scatolina che ho preso non c'erano scritte, non me le ricordo, che avevo preso in Fiera Bologna e ho deciso appunto di incastonarlo utilizzando le delica quelle bagnate in argento, così rendono il tutto molto più luminoso e poi ho realizzato questa decorazione. Allora, ho usato questi piccoli mezzi cristalli, no non sono mezzi cristalli, sono le rondelline piccoline comunque e sono ne matite brillante, anche se qua non si vede benissimo, no non si vede bene, ma ti lasciamo qua. E niente, diciamo che devo provarla con una catenina color argento o in argento per vedere come è, però non mi convince molto perché ho deciso appunto di realizzare un'incastonatura beh, normalissima, dove ci ho messo delle gocce qui davanti, bianche, degli Swarovski, però queste rondelline qua ho deciso appunto di decorarle, di metterle per decorare il cabochon, non proprio tutte della, tutto, cioè per creare un contorno tutto uguale, quindi io le ho messe qua una, le ho messe soltanto una, mentre dalla parte centrale fino alla fine le ho intervallate tra una, le ho messe due, le ho messe tre per creare tipo delle piccole codine. Vabbè, diciamo che dal vivo è molto luminoso, è carino, però non so, devo provare provarlo con una catenina perché non so se mi convince, vi farò poi sapere se ho deciso di tenerlo così oppure l'ho modificato in qualche modo. poi ho realizzato, questo qua ragazza è bellissimo, uno schema che ho trovato in internet gratis e ho realizzato questo anello, adesso vediamo se vedrà un tubo, perché poi è bianco, io faccio sempre di quei colori, questo anello l'ho sempre incastonato con delica bianca, un rivoli crystal e ho messo nelle puntine degli svaroschi da 3 mm e poi l'ho decorato e ho fatto anche il cinturino sempre con le delica 11.0 bagnate in argento per rendere ancora tutto più luminoso. Allora, vediamo se lo infilo, sapete che io sto registrando sempre con una sola mano, vediamo se almeno così si vede qualcosa. Vi mostrerò come metterò eventualmente una foto a fine video per mostrarvelo, è veramente bellissimo, luminosissimo e veramente è una favola, non mette bene a fuoco. E questo qua è uno schema che ho trovato sul blog di Violina, vi metterò comunque sotto il link. Trovate molti schemi di questa ragazza francese se non ricordo male, a me me l'ha fatta scoprire, me l'ha fatta conoscere la mia amica Laura. Spero che si pronuncia bene così. Metto sotto anche il suo indirizzo, il suo nome del suo canale e andate a vedere perché fa veramente delle creazioni spettacolari, anche la mia amica Laura. Quindi niente, chi non la conosce può andare a visitare e a vedere appunto la sua bravura. E niente, quindi vi stavo dicendo, mi ha fatto conoscere appunto questo blog di Violina, Violina, sì. Sono degli schemi gratuiti e io ho realizzato appunto questo anello, ma ci sono tantissimi altri schemi ragazze che potete andare a vedere. Mi dispiace che questo colore non renda. E poi, sempre appunto di uno schema da Violina, ho realizzato questa prima parte di un anello. Sì, i colori sono un po' quello che sono, perché sono delle idilliche che avevo lì da finire e ho deciso di utilizzarla. E mi manca, vabbè, la fascetta. Quindi questa è la creazione che vi dicevo che è completata per metà. E niente. Ecco, forse così si vede un po' meglio. Ecco, così. E niente, quindi questo qua poi ci ho pensato eventualmente di creare un ciondolo. Però non lo so. Penso che comunque farò un anello. E niente, insomma, queste qui sono le tre cosette che ho fatto. Una, due, il mio anello. Adesso vi faccio venire il mal di mare. Ma sto cercando di togliere il milanello per metterlo lì. Ok. E niente, ragazze. Questo è tutto. Ho moltissime altre idee di creazioni che dovrò realizzare in questi giorni, insomma, prossimamente. E vi mostrerò. Per ora è tutto. Vi mando un bacino. Ciao.